Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi stiamo qui su Rugby League 3 Allora, single game Mi raccomando, fai un altro po' di rumore, guarda quel deficient Allora, continuo, facciamo livello a primo livello perché stiamo cessi, stiamo inguagliati Allora, Nuova Zelanda contro Francia Vai Nuova Zelanda, eccoci qua Fatemi sapere se volete video di questo tipo Ok, battono loro Non siamo, ricordiamo, Nuova Zelanda, l'Italia non c'è in questo gioco Fisca pure in acce Ok, ok, ok Via nostra, nostra Così c'è un passaggio Vai, sì Vai, vai Dai, stiamo facendo, stiamo andando, stiamo andando, stiamo andando No, no Se... META Grande ragazzi, grande, grande, grande Ce l'abbiamo fatto la prima meta È tosta Vale, guarda le cazzioni Eh, è stato grande, ragazzi, grande, grande, grande Ok, ecco, sto inguagliato, sto inguagliato a questi tiri Come facciamo, non lo so Aia, aia, mi sapevo sbagliato Sì, ho sbagliato Vabbè, non fa niente, poteva andare meglio Comunque, poteva andare peggio Perché abbiamo fatto la meta, ragazzi, abbiamo fatto la meta Come vi dicevo, come vi ho sempre detto Ho cominciato anche io, quindi, a giocare a rugby Ehm, dovevo portare un gameplay dedicato a rugby Per forza Vai, corri, corri, adesso Vai, vai, abbattila, 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 abbattila Io comunque siamo i neri Sì, se non l'avete capito perché non credo che Mamma, che qua caccia Oh, chiudete, chiudete lì Grande, grande